Ma che tu sei messo in casa? Paga questo, paga chi, regala qua, regala là. E' poco resta la storia. Ti metti a sfidare pure i pezzi da novanta. Ma che sfida? E' stato un mal intenso. Che tu puoi questa vita? O sai chi è chi lui là? Che l'ha già ricordata? Mi sa' chi era. E non sa' chi sono. Tieni fiducia in me, eh? Rosario, state calma. A vita è un sorriso.